cari amici vicini e lontani forteti e bibbiani torniamo a fare un video mostrando la verità la verità di oggi venerdì 5 agosto 2022 come vedete la fonte la data tutto vero nulla di inventato in apertura proprio nei 15 punti del centro destra no alla compressione delle libertà per il covid è molto importante no alla compressione delle libertà per il covid ed è anche una implicita ammissione che in passato molto si è sbagliato e si è andato molto oltre perché i diritti delle persone la libertà è stata compressa e come per il covid quindi vedete com'è la politica il centro destra non lo dice chiaramente ma questa è una confessione implicita nel passato molto si è sbagliato e ora ci si prende l'impegno di non sbagliare più riguardo alla compressione delle libertà personali per il covid e andiamo a vedere proprio questo articolo nello specifico che trovate ripeto sulla verità di oggi venerdì 5 agosto 2022 22 trovate a pagina soltanto un attimo sfogliamo le pagine è ancora dopo lo troviamo non a pagina 7 ma a pagina 9 infatti me lo ero cinque minuti fa evidenziato vedete il circolato dato in rosso venerdì 5 agosto 2022 pagina 9 siamo sempre sulla verità qui si parla delle dimissioni di musumeci ma l'articolo che mi interessa e che volevo proporvi è questo a fondo pagina sul covid no a norme liberticide e spero che si veda tutti i 15 punti del programma elettorale del centro destra dalla collocazione in europa alla gestione dell'emergenza sanitaria la bozza sarà sottoposta ai big dell ecco l'edizione perché se leggete l'articolo per esteso vedete andiamo qui sono 15 punti per il programma di un governo di centro destra che si intitola l'italia domani la cui prima bozza in sette cartelle è stata messa a punto ieri dal tavolo permanente del centro destra e che passerà ora l'esame dei leader della coalizione in vista della presentazione definitiva entro il 14 agosto quindi come vedete 15 punti che fanno parte di una bozza in sette cartelle e che però dovrà presto diventare una pro il programma definitivo entro il 14 agosto i tempi sono ristretti lasciando perdere tutto il resto spazio andiamo a leggere quello che mi interessava sul punto specifico e che come vedete ho evidenziato spazio anche alla gestione del covid si prevede infatti al punto 7 tutela della salute quindi punto 7 di questi 15 punti di questa bozza del programma ancora in lavorazione in definizione dicevo si prevede infatti al punto 7 tutela della salute il contrasto alla pandemia di covid 19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali si tratta di promozione promozione che non è certo obbligo promozioni di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali e si entra nello specifico si fanno degli esempi come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti e ciò che anche a proposito proprio della ventilazione meccanica sgarbi e non solo sgarbi tanti altri propongono da anni e non è stato fatto o è stato fatto in minima misura anche quando le risorse ci sono e ora vedete che si torna a parlarne ripeto ancora attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali come la ventilazione meccanica controllata il potenziamento dei trasporti senza compressione delle list delle libertà individuali anche questo passaggio molto importante senza compressione delle libertà individuali secondo il principio del convincere per non costringere o meglio convincere e non costringere perché costringere non si può mai ed è contro la costituzione quindi vedete qualcosa si muove ripeto il centrodestra adesso questa è solo una bozza vedremo poi il programma definitivo entro il 14 agosto ma al punto 7 parla senza compressione di delle libertà individuali secondo il principio del convincere per non costringere dice esattamente questo quindi cenere allegriamo qualcosa sembra cambiato è un fatto importante è anche però come ho detto all'inizio del video e torno a ripetere una missione implicita degli errori del passato degli errori del passato quando si è andato si è andati davvero molto oltre e eppure sto parlando del periodo di draghi oltre che quello di conte che però ha visto sempre il centrodestra a votare questo dobbiamo dirlo per onestà intellettuale delle misure che in realtà andavano molto oltre quindi ripeto da un lato positivo che si prenda le distanze dal passato dall'alto da un lato positivo che si parli esplicitamente di evitare le compressioni delle libertà individuali e vediamo questo è un punto qualificante il punto 7 che deve essere assolutamente confermato nel programma definitivo che avremo entro il 14 agosto naturalmente dall'altro lato nell'altro campo vediamo invece letta che invece non mostra al minimo segno di pentimento e promuove tuttora speranza come ministro della sanità e quindi vedete che per quanto la politica sia sporca e i partiti tradizionali abbiano tanti tanti limiti non tutti sono da porre sullo stesso piano assolutamente no detto questo chiudo questo video vi ricordo l'iscrizione se vi va sul mio canale vi ricordo shark tube giorgio ricardin vi ricordo telegram giorgio ricardin cari amici e vicini e lontani forteti e biviani alla prossima video pillolina grazie a tutti